Parlami di Firenze e della rinascenza, novità di Bravante e di stilogo e tante. Si racconta a Firenze che la terra è rotonda e che c'è un continente alla fine del mondo. Navi vanno laggiù e cercano nel vento il nuovo orientamento della rottamenti. C'è l'utero che inventa un nuovo testamento e noi siamo all'alba di un mondo che si scende. Si dice che il contemporanea cambia il modo di capire, con le presse a Norimberga sta stampando l'avvenire. Sulla carta un poesie, esi insatile, esie, l'aria nuova farà, nuovo chi l'arriverà. Ogni piccola cosa scenderà, grandi vecchi scenderanno, altari e cattedrali. La stampa imprimerà la bambina sulla pietra, la Bibbia sulla pietra e l'uomo sopra Dio. La stampa imprimerà la bambina sulla pietra e la pietra e l'uomo sopra Dio. Quero che invenga il tuo prestamento e noi siamo all'alba, un mondo che si scende. L'aria nuova farà più nuovo che vivi.